la giovane cantante nissena cetti presti filippo pubblica su youtube il suo terzo video musicale e in poche ore ottiene centinaia di visualizzazioni dopo demoni insieme a ropes il 20 agosto 2022 e diversa il 28 gennaio scorso con location principale il teatro margherita di calta nissetta ora è la volta di luminosa nella splendida cefalù con questa musica ci batte il corasso sotto le stelle forse stanotte non dico no chiedi sulla sabbia scotta come fiamma mano tra i capelli movimenti lenti i gambe non si fermano nemmeno se ci provo mani lentamente che carezzano il mio corpo non ci serve parlare poi c'è la musica dentro noi al testo hanno lavorato cetti e corrado sellitti che non ha bisogno di presentazioni nel panorama musicale nazionale il video è stato diretto da alan marotta tutti questi che mi guardano non hanno senso luminosa nel locale quando tutto è spanto sto facendo non c'è la musica dentro e non andiamo via Grazie a tutti.